A-A-A, siamo a quell'argomento delicato che qualche sera fa non ho potuto affrontare. Forgione, con una lettera scritta in maniera molto sofisticata, ci manda delle diapositive, delle fotografie e si chiede alcune cose. Intanto noi vi facciamo vedere le fotografie, va bene? Ecco qua la prima. Chi prende la tangenziale all'Arenella e conosce bene questo edificio, è un rustico che sta lì da tanti, tantissimi anni, una costruzione abusiva intorno alla quale gira la tangenziale. Ora ci fu una causa, ci fu un procedimento e il giudice Aldo De Chiara allora ottenne che questo edificio venisse abbattuto. Non se ne è fatto niente. Era un edificio abusivo. Questa è un'altra immagine del medesimo. 20 anni fa. Più avanti, a destra, ma novantina di metri. Questo qua su, questo qua su. Lo vedi? Ce n'è un'altra a destra. In mezzo al verde, al giardino, nascosto. Nascosto per chi? Per noi, non per chi ha costruito. Se non che, se non che, caro amico Forgione, ci manda tutto per dirci cosa? Per dirci, sapete, questi mostri annidati in città, vi fanno ricordare un altro mostro. Questo qui. Eccolo qua. Il mostro di Alimuri, che venne costruito abusivamente, eccetera, eccetera. Poi, un anno fa, si decise di abbatterlo, di dare al proprietario attuale, che non è il costruttore, un altro suolo dove costruirsi la stessa volumetria, lasciandogli pure la spiaggia, eccetera, eccetera. Ma che cosa dice Forgione, che ci ha mandato queste fotografie? Dunque, c'è un nesso, dice, fra tutti questi mostri. La proprietaria del mostro, l'ultimo, di Alimuri, sarebbe la figlia del proprietario defunto del mostro dell'Arenella. Noi quel nome, lei non lo fa e noi non lo faremo. Non abbiamo paura di sfiorare la politica, no. Assolutamente no. Però, siccome non c'è né accusa né inadembienza, c'è solo un raccontino di cronaca, mostri, noi lo lasciamo così. Però, caro amico Forgione, che ci ha mandato le fotografie, può darsi che sotto quel nome, di quella stessa famiglia, eccetera, eccetera, lei dimostra che ne potrebbe trovare un altro. Dove? Ai Colli Aminei. Tentarono anche di abbatterla. Sì. Ma arrivò in tempo, alle sei di mattina, una sospensiva firmata da un presidente di TAR, che pare che fino a cinque minuti prima avesse avuto la febbre a 40. Io mi fermo con la maliziosa serie di mostri napoletani. Eh, che volete fare? Perché l'ho detto oggi, in una puntata che abbiamo aperto, dicendo che la politica deve moralizzarsi? Chissà.